A quasi un anno dall'invasione russa ci si stupisce della forza d'animo con cui gli ucraini tengono ancora testa la potenza di fuoco dell'invasore. Una guerra certo inspiegabile, fratricida fra popoli già sotto una comune bandiera sovietica, ma ancor più accomunati dallo stesso ceppo linguistico, dalla stessa religione ortodossa dominante, dalla stessa madre russa di Kiev, risalente al principe vichingo Oleg, e dal comune battesimo voluto dal principe Vladimir nelle acque del Dnepr nel 988. Ma nel popolo ucraino bruciano ancora due sanguinanti ferite. La carestia provocata dalla prima collettivizzazione forzata di Lenin negli anni 20, che produsse quasi due milioni di morti per fame. E, molto più grave, l'Holodomor del 1932-33, imputabile a Stalin, con il suo cruento prodotto di quasi quattro milioni di morti per fame. Lenin e Stalin sono, per gli ucraini, purtroppo, i riferimenti per la banda di oligarchi, potenti e corrotti, che costituiscono il cerchio magico del despot russo, Putin, responsabile sommo di questa inutile guerra e strage. E' nella rielaborazione di questa memoria di popolo che l'Ucraina trova la forza e la compattezza necessarie per opporsi strenuamente all'invasore, superando pure inevitabili divergenze culturali e strategiche interne, e bloccando derive corruttive e tendenze nazionalistiche estremiste, che è inutile negare che non ci siano, ci sono. Una sorta di Davide, che sente il fiatto favorevole del popolo alle sue spalle, contro un Golia fortissimo, ma rozzo e supponente. Holodomor è parola composta di mortiri e di holod, morte e fame. In qualche modo si può tradurre come infliggere la morte per fame, per carestia. Un evento degli anni 32-33 che dal 28 novembre 2006 è riconosciuto dall'Ucraina quale genocidio, oggetto di annuale ricordo. Qui vediamo nella diapositiva l'omaggio di Zelensky al monumento dell'Ulodomor e poi, subito dopo, l'altra diapositiva, vediamo il monumento eretto in memoria dei morti per fame dell'Ulodomor, eretto a Kiev. Altri 17 paesi nel mondo hanno poi dichiarato l'Ulodomor genocidio, mentre alcuni, tra cui l'Italia e gli Stati Uniti, si sono fermati alla definizione di crimine contro l'umanità e trasedia nazionale ucraina. Nel novantesimo anniversario di questa enorme trasedia ricordo tre questioni ancora aperte su cui discutono storici, politologi, sociologi e giuristi. La prima è se si possa o meno parlare di genocidio. In relazione ai requisiti stabiliti dalle risoluzioni dell'ONU, la numero 96 del 1946, e la numero 260A del 1948, quest'ultima indebolita dalle pressioni dell'URSS rispetto alla primitiva definizione di genocidio, molto chiara data da Raffaele Jomkin nel 1944. Secondo punto, se la grande carestia ucraina abbia dei caratteri esclusivi o se si tratti di un evento comune alla contemporanea carestia che ci fu nel Kazakistan, nel Caucaso settentrionale, nel Basso Volga, nella Siberia occidentale, pure provocate dalla politica dissennata di Stalin. E terzo punto, se l'Olodomor sia una conseguenza delle misure legate alla collettivizzazione forzata, alla decullacizzazione, come è stata detta, alla requisizione del grano e alla deucrainizzazione, decise da Stalin, o se sia stato un atto deliberato dello stesso Stalin, volto ad annientare un intero popolo, se cioè vi sia intenzionalità o meno nell'atto criminale compiuto contro un popolo di contadini. Non sono uno storico e vorrei commentare queste questioni con lo sguardo di semplice amico del mondo slavo e del mondo ucraino in particolare, al quale mi lega un'empatia ormai da più di cinque decenni. Quanto alla prima, se si possa o meno parlare di genocidio, rinvierei alla lucida analisi del magistrato Vartan Giacomelli che nel corso di un convegno tenutosi a Padova sull'Olodomor in occasione dell'ottantesimo anniversario, il primo dicembre 2012, ha provato la sussistenza di tutti i requisiti fissati dalla risoluzione dell'ONU del 1946, che per brevità proietto e non commento, giungendo alla conclusione che certamente si tratta di genocidio. Aggiungo solo che la popolazione censita in Ucraina nel 1932 era di 32 milioni 680 mila persone. A fine 1933 era diminuita, secondo le stesse fonti sovietiche, di oltre il 25%. Qui si vede anche una mappa che illustra le zone più colpite da questo fenomeno della diminuzione della popolazione. E un morto su tre era un bambino. Da 3 a 4 milioni di morti accertati, ma alcuni storici, come l'ucrainista americano Andrei Gregorovic oppure Nikola Svert nel famoso libro Il Libro Nero del Comunismo, ritengono più probabili anche 7-8 milioni di morti per fame, indirettamente confermati dallo stesso Stalin in una testimonianza resa a Churchill. Difficile pensare, quindi, che non si sia trattato di un genocidio. Passiamo al secondo punto. Quanto alla singolarità del genocidio ucraino rispetto alla generale carestia che interessò anche altre regioni sovietiche, gli storici concordano sul fatto che la carestia artificiale colpì in misura nettamente minore che in Ucraina altre regioni dell'Ursi. Inoltre, e questo è un fatto fondamentale, Stalin non impedì agli abitanti delle altre regioni di spostarsi nelle città alla ricerca di qualcosa con cui sfamarsi. Si accanì invece senza pietà in Ucraina, bloccando i residenti nei loro villaggi. C'è una famigerata ordinanza di Molotov del 27 dicembre 1932 che impone spene severissime per chi si allontana dal villaggio. Poi, pensando anche all'eliminazione dei contadini più intraprendenti, cosiddetti kulaki, lasciando al loro destino decine di bambini che vagavano affamati per le strade fino a cadere a terre esausti in agonia o finire deportati. Qui vediamo tre immagini di bambini che vagavano per la città di Kharkiv fino allo sfinimento. Ci furono anche disperati tentativi di fuga, certamente, che si concludevano quasi sempre con la morte per fame sui bersapiedi delle città. e vediamo una diapositiva con l'immagine di un folto gruppo di contadini che cercano di fuggire verso la città, seguita da due immagini che documentano i morti sui marciapiedi di Kharkiv. E vi fu pure il blocco scelerato di alcuni convoli di derratti alimentari che la Croce Rossa e il Vaticano cercarono di far entrare in Ucraina. Decisivo a questo proposito il rapporto della commissione James Mays al congresso americano nel 1988. Ma citerei anche il libro di Stanislav Kulczyski del 2007, mostrerei la copertina, è un libro molto importante questo, dal titolo Perché lui ci ha sterminati. E lui, evidentemente, lo si riconosce dalla foto, è Stalin. E poi le toccanti testimonianze di un certo numero di sopravvissuti raccolte da un sopravvissuto che è Semionin Stariv, del quale pure presenterei la copertina del suo libro, pubblicato nel 2006. E tutti questi testi imputano certamente l'Olodomor a una carestia non dovuta a cause naturali, ma solo a ragioni politiche riconducibili al totalitarismo sovietico-staliniano degli anni 30. Sul ricondurre poi infine da l'Olodomor alla collettivizzazione forzata imposta da Stalin con il primo piano quinquennale del 1929-33. Vi è disaccordo tra storici russi e storici ucraini e occidentali. Nel negazionismo dei primi, cioè dei russi, vi è il desiderio, più o meno malcelato, di sdoganare almeno in parte l'operato di Stalin, per cui la carestia sarebbe piuttosto una conseguenza della politica economica dissennata degli anni precedenti, quelli della NEP, della nuova politica economica voluta da Lenin, culminata nella requisizione di derrati alimentari volte a sostenere l'industrializzazione e lo sforzo bellico. L'unicità del fatto ucraino è comunque acclarata anche dalla notta paura di Stalin di perdere l'Ucraina a causa della sua prossimità al confine con le nazioni occidentali. E Stalin, dopo la primavera del 1933, quando la morte per fame raggiunse il suo aspice, appice, leggendo i rapporti che venivano dall'Ucraina da parte dello scrittore Mikhail Aleksandrovich Solokhov, quello del Placido Don, e da Lazar Kaganowicz, vide nella grande fame l'opportunità di dare una lezione, come lui disse, agli stimati coltivatori di grano, definizione ironica da parte di Stalin dei Kulakhi, accreditando la carestia come una vittoria straordinaria e stupefacente dello stalinismo. Ma al di là delle disposizioni sui temi che sono ancora oggetto di discussione, resta il fatto che l'Olodomor fu un bienio di orrori, di deportazioni in Siberia dei Kulakhi, di fucilazioni, di confisca di mezzi di sussistenza alimentari, persino delle sementi, con morti per fame, abbandonati nelle strade e documentati casi pure di necrofagia, specie di cadavere di bambini e di cannibalismo. Le brigate di controllo portarono via di tutto, verdure, patate, barbabietole, carne e naturalmente utensili da lavoro e macchinari, costringendo però i contadini a raggiungere comunque le assurde quote fissate per le requisizioni. Fatti drammatici, attestati però da documenti ormai inoppugnabili, resi accessibili dopo la parziale apertura degli archivi segreti voluta da Mikhail Gorbachev. A questi si aggiungono anche preziose testimonianze di diplomatici, giornalisti e visitatori stranieri occasionalmente presenti in Ucraina negli anni 32-33, come ad esempio Viktor Serge oppure l'agronomo canadese Andrew Kearns, il metropolita Andrei Settichki, l'ingegnere sudafricano Jerry Berman, fatti, divulgati dalle pubblicazioni ben note di Robert Conquest, di Vassili Grossman, del quale consiglio vivamente la lettura, tutto scorre, e di molti altri. Una breve, una sintetica rassegna bibliografica la presento in una diapositiva. Vorrei qui ricordare l'imponente raccolta però di 681 documenti pubblicata nel 2007 nella diapositiva vediamo la copertina di questo mastodontico volume dall'Istituto di Storia Ucraina e dall'Accademia delle Scienze Nazionale Ucraina. Si possono leggere in questi documenti decreti di requisizione del grano delle sementi firmati dallo stesso Stalin o dagli organi periferici del Partito Comunista sovietico, deposizioni di testimoni a processi farsa ai contadini Kulaki che si concludevano con fucilazioni o deportazioni in Siberia, petizioni di singole persone o degli stessi membri del partito che lasciano trapelare quanto la fame stesse ormai mietendo a migliaia vittime innocenti e soprattutto bambini elenchi di cadaveri raccattati lungo le strade minuziosi elenchi di quote di quantitativi di cereali che dovevano essere requisiti e conferiti pena severe punizioni agghiacciante ad esempio tra questi documenti la corrispondenza telegrafica tra Stalin Molotov Kaganovich e Iagoda e i presidenti dei soviet locali e i membri della politica e dello GPU il futuro che ghebè la polizia politica documenti che inchiodano il potere sovietico alle sue responsabilità per l'olodomoro nella diapositiva ho voluto mettere una fotografia che si trova peraltro anche in internet dei responsabili sommi del genocidio gli elenchi raccolti dal rapporto sono redatti con quella ragionioristica precisione che fa pensare alla banalità del male di Hannah Arendt la documentazione fotografica di quelle vicende non è abbondante però le ragioni i riscatti dell'OGPU sono stati in gran parte distrutti quali prove dei delitti compiuti e le foto dei pochi visitatori stranieri sono state fatte clandestinamente le prime fotografie risalgono già alle requisizioni operate nel 1929 e mostrano confischi di grano farina e animali nelle regioni di Vinniza e di Donetsk la grottesca confisca di un'unica vacca unica forma di sostentamento per una famiglia e poi anche l'azione in un'altra diapositiva l'azione di alcuni attivisti che scoprono e sequestrano un sacco di sementi nascosto in una buca del terreno si documenta poi già nel 1931 prima ancora che inizi la fase critica della Rodomor l'allontanamento dei contadini ricchi e come vediamo dalla foto fa ridere il pensiero che si tratti di contadini ricchi quando tutte le loro cose stanno su uno sgangherato carrettino vi sono poi foto che attestano tentativi dei contadini di opporsi alla politica della collettivizzazione e delle requisizioni si nota una manifestazione pacifica già nel 1929 con un cartello che vediamo in diapositiva che suona come non fateci morire di fame con le requisizioni e un eloquente manifesto con la scritta non date il pane ai bolshevichi più cruente ancora sono le fotografie successive degli anni 32 e 33 che mostrano la fame in tutti i suoi tragici risvolti e qui vediamo in sequenza alcune diapositive bambini divenuti improvvisamente orfani per le morte per fame dei genitori che vagano affamati e senza meta cadaveri abbandonati e spesso privati anche dei vestiti a cui nessuno bada essendo già problematico è difficile badare a se stessi una foto mostra la spasmodica ricerca collettiva di resti di patate in un campo scavando con le mani operazione peraltro proibita dall'OGPU e oggetto di severe punizioni paradossalmente nonostante il crollo dei raccorti però il governo sovietico bisognoso di valuta presata per finanziare la tecnologia degli armamenti esportò nel 1933 18 milioni di tonnellate di grano e di altri prodotti fu una catastrofe quella della Lodomor voluta da un uomo solo al comando e ci si chiede sgomenti se qualche segno di umanità e di pietà non fosse affiorato pur nelle oscure stanze del potere sì ci fu qualcuno e pagò con la vita però citerei Mikola Skripnik ad esempio un bolshevico della prima ora rivoluzionario e marxista convinto ma uomo di grande cultura che prese parte attiva alla rivoluzione di ottobre ricoprendo anche incarichi di governo negli anni venti divenne una figura chiave per l'ucrainizzazione della cultura voluto da Lenin parallelamente alla NEP nel 1927 venne nominato commissario nazionale all'educazione ucraina e a lui si deve la quasi totale scomparsa dell'analfabetismo in Ucraina portando il tasso di alfabetizzazione al 90% superiore a quello della nazione russa fondò oltre 2000 tra scuole e università ristrutturò l'Accademia delle Scienze Ucraina stabilì l'ortografia e la grammatica Ucraina e organizzò la stampa e l'editoria in politica varò la teoria dei due fronti quello operaio e quello contadino che con la loro alleanza avrebbero entrambi contribuito alla costruzione del socialismo con l'avvento di Stalin le tese di Skripnik che puntavano al socialismo basato su un particolare via nazionale furono considerate una minaccia all'egemonia staliniana però avrebbero certamente evitato il dramma del loro demora estromesso dalle cariche di partito Skripnik dopo aver denunciato le sofferenze della popolazione a causa della carestia si suicidò nel 1933 concludo ho inserito nel titolo del mio intervento una parola composta che non esiste nel vocabolario e che suona simile a holodomor colodomor combinazione delle parole colod e mor freddo e morte quel freddo provocato da Putin con il suo dissennato bombardamento dell'Ucraina proprio quando sopra un paese già devastato dai suoi micili si stende l'ombra del gelo la foto l'ultima foto mostra una fossa comuna del loro domor ma potrebbe essere benissimo quella di oggi a Buccia o a Karkiv la storia non insegna e si ripete Stalin secondo alcuni storici ha goduto dell'effetto della grande fame senza esplicitamente volerla in quanto più interessato alla collettivizzazione all'industrializzazione e alla necessità di riparire risorse per le armi Putin invece vuole azzerare scientemente l'Ucraina come nazione democratica colpendo pure i centri energetici e produttivi fino alla resa incondizionata di un popolo fino a renderlo schiavo del suo sogno zarista e visionario del Ruschimir la grande Russia è certo discutibile e anche azzardato un parallelismo tra Stalin e Putin ma i miei amici ucraini non hanno dubbi il secondo Putin sprezzante della storia e della cultura è forse peggiore del primo vi ringrazio per l'ascolto e arrivederci azzardato